Ancora una volta nella campagna elettorale per le regionali si registrano più polemiche che proposte. Biancardi replica muso duro a Martuscello di Forza Italia che ne aveva denunciato l'assenza in questa tornata elettorale. Non ricordo il suo appoggio alla provincia, ha fermato il numero uno di Palazzo Caracciolo, sottolineando ancora è colpa sua se il centrodestra perde pezzi. Le polemiche sono ancora più aspre all'interno delle coalizioni che tra avversari accade anche nel centro-sinistra di De Luca, dove De Mita contesta le troppe liste. Io con De Luca vado d'accordo, anche quando ci sono scalate diverse, ma la scalata diversa è raccordata agli eventi straordinari che ci sono stati. Non è una cosa di dissenso, anzi. La mia convinzione è che la rappresentanza deve avere come riferimento una realtà, un pensiero, non una quantità di persone, soprattutto se poi la quantità di persone è di una mediocrità insopportabile. Ieri l'inaugurazione del comitato avellinese di Nazzaro e Rosato, non solo campagna elettorale, al centro dell'attenzione anche il tema Covid. Oggi come oggi, a dire la verità, l'emergenza è proprio reale, perché abbiamo un po' allentato le retini e i numeri purtroppo sono saliti. Però, insomma, siamo ancora in una condizione discreta, quindi abbiamo possibilità, come ha detto il Presidente De Luca, di rimettere alle cote a posto, chiamando alla responsabilità i concittadini, mettendo in modo le ASL e i medici di vicina generale e gli ospedali di poter fare rete e quindi automaticamente di poter seguire quei protocolli che ci vengono naturalmente dettati sia dai decreti, sia dai nostri scienziati del Comitato Tecnico Scientifico.